Ha paura, la paura. Ha paura non è un sentimento strano, è non giusta niente a svergogna, è un'esperienza che ogni essere umano prima o poi rinda vita la dà fa. Quei notizi che c'era la televisione nessuno di noi savo scanzà, perché tutti i giorni il solito copione a Ruyann sentì me recità. Ormai tutti i telegiornali ripetono ogni giorno a stessa litania, si parla solo delle percentuali e dei contagi dell'epidemia. A essere sincero, noi non ne potimmo più isti notizi che ne falsità. Tra Facebook, Youtube e la TV non si capisce dove sta la verità. Tutte ste notizie contrastanti fanno aumentare sempre chi ha paura, al punto che solo più distanti ci sentiamo un poco più al sicuro. Comunque, tutta questa bella gente non si capisce dove sta la verità. Al prossimo episodio,